Dalle 23.50 alle 4 di stanotte, finestre chiuse e animali domestici in casa, in via Filangeri alla Guizza, in via Le Cavallotti e via Fratelli Bandiera in zona Bassanello e in via San Giovanni Bosco alla Paltana. In questi orari saranno effettuati i trattamenti adulticidi delle zanzare previsti dal protocollo ULS. Si tratta, informa l'assessore all'ambiente Andrea Ragona, di trattamenti straordinari in un raggio di 200 metri dai luoghi dove sono stati riscontrati gli ultimi contagi. Sono 14 i casi accertati a Padova, una densità bassa nella provincia, ma questo non deve far abbassare la guardia. Il comune continua con la disinfestazione ordinaria e straordinaria quando richiesto dall'ULS, con la somministrazione di pastiglie e larvicide e la distribuzione di repellenti negli eventi organizzati dal comune. L'utilizzo del repellente rimane la prima difesa contro la puntura delle zanzare, ricorda Ragona. La West Nile è una malattia portata dalla zanzara comune, quella che punge dalla sera all'alba e che la disinfestazione adulticida avviene su indicazione delle autorità sanitarie.